Angelo Marani Con i miei colori credo che sia stato, che abbia dato un risultato meraviglioso In due parole, raccontaci la donna primavera estate di Angelo Marani, com'è? Dunque sarà una donna seducente, sarà una donna colorata che ama osare perché io ho preso le silhouette semplici e per bene degli anni 50 con una forte iniezione, una forte dose di potenza e di sex appeal degli anni 80 Tanti saluti, complimenti, siete sempre presenti, grazie tante